Questo video comincia alla stazione del sottopassaggio di Milano Lambrate, sono sul binario 8, tra l'8 e il 9. In questo video vi farò vedere alcuni treni, mentre aspetto il suburbano S9, e spero che sia in piano ribassato, per Saronno, sul binario 4. La stazione di Milano Lambrate è una delle stazioni più importanti nel nodo di Milano, perché passano tanti treni ad alta velocità, tipo Frecciarossa, Frecciarossa 1000, Italo, Intercity, poi passano le linee un po' più lenti, che sono i regionali, la S9, treni per Stradella, Piacenza, Alessandria e tanti altri treni merci, e la linea per Cremona, Milano Porta Garibaldi, Cremona e Bozzolo, Milano Centrale. Il treno suburbano S9, 24, 9, 6, 1, di treno Nord, proveniente da Saronno, è diverso al Bairate, permesso, legione 17, 05, è in arrivo al binario 3. Attenzione! All'ostanarsi dalla linea gialla. Per lei tutte le stazioni. Iniziamo a terza. Il treno suburbano S9, 24, 9, 6, 1, di treno, proveniente da Salotto, spesso, sbagliate per l'invio di inerore, intervento del 05, è in attimo, 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 è in attimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, a sostenarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno di transito a binario 11, a sostenarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno di transito a binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno di transito a binario 4, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno di transito a binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.